salve ragazzi bentornati sul canale di eva ridoni per un nuovo episodio a donkey kong 94 quindi cominciamo ovviamente io mi scordo di cliccare e cominciamo concludendo il mondo della giungla siamo all'incirca a metà gioco mondo deserto carina anche la musica vai e qui si comincerà ad usare il martello per distruggere le pareti mi sembra che dopo un posi di forma intanto noi distruggiamo più roba possibile eh non ho fatto in tempo intanto aspettate che vado a prendere il cappello e l'ombrello anche se alla fine non serve più ragazzi non serve più perché ormai le vite le abbiamo tutte quante però in compenso frantumiamo tutto quanto qui ok lì si cade non so se la piattaforma si ricrea ma tanto possiamo farlo da entrambi i lati no mi sa che non si riforma ok a posto primo livello completato slot machine ormai inutile probabilmente probabilmente ricomincerò a raccogliere gli oggetti quando scenderanno le vite ora vediamo oh mamma cos'è quella roba oh mio dio chi l'aveva visto questo teschio la chiave è lì posso ok si posso uccidere le mummie si ok ok vediamo probabilmente devo scendere col martello e distruggere le varie pareti qui tipo così oh porca miseria è finito l'effetto maledizione vabbè la vita sta bene lì riprendiamo il martello distruggiamo anche quell'ultima parte anche se forse non è stata la cosa più furba da fare no ok ok ce l'ho fatta bene a posto abbiamo liberato lo spazio andiamo e completiamo anche questo ho lasciato un oggetto così andiamo un pochino più in fretta non che i precedenti gameplay fossero troppo lunghi ma bene sempre più ampi fatemi dare un'occhiatina la chiave è lì e a momenti mi suicido c'è un martello con la quale potremmo andare giù vediamola lasciamolo ok cosa ci distruggo forse questi blocchi qui oh mamma mio dio ragazzi come me la sono sfangata neanche io idea di come ho fatto potrei provare a lanciarla lì non era questo che volevo fare ma ok esaminiamo con questa ho invertito a ok 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 perfetto ho invertito gli elevatori qui gli ascensori così dovremmo poter scendere senza troppi problemi ok questo non mi interessa vai qui e noi concludiamo e ci richiudiamo la porta alle spalle nessun oggetto scontro con donkey a quanto sto quattro minuti magari potrei fare un paio di scontri volendo mi avete fatto notare che i gameplay alcuni sono venuti veramente troppo troppo corti allora cercheremo di di fare più di di uno scontro oh mamma oh mamma oh mamma no no attenzione mio dio ci sono andato vicinissimo ok 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 andata quindi io avrei concluso però visto che stiamo a quattro minuti dai facciamoci un'altra run e qui come va aia abbiamo dato una craniata ci siamo fatti male ma siamo riusciti a superare l'ostacolo qui c'è una zanzara che mi sta rompendo l'anima ok e allora facciamoci la seconda parte quindi la chiave è dall'altra parte vediamo come possiamo fare per intanto questi posso eliminarli sì vabbè tu resta lì con questo martello cosa faccio come la porto la chiave di oh ma guardate mi tocca sbrigarmi prima che scompaia presa avanti secondo livello e c'è anche donkey kong junior lì ci sono i topastri ma qui dobbiamo fare attenzione vediamo se riesco ad eliminarli subito ok anche perché tanto devo portarmelo comunque giù per abbattere la parete qui ok prima questo che è quello più pericoloso intanto la chiave l'abbiamo presa ora voglio vedere ah dobbiamo raggiungere la leva lì ok quindi per adesso buttiamo la chiave aspetta lui che fa che fa quando ok no inverte semplicemente itapirulan vediamo se faccio in tempo prima di farmi accoppare salve fiammetti venite qui scenderesti proprio al momento sbagliato ok intanto noi apriamo qui perfetto abbiamo liberato la porta quindi ah ok posso anche andare semplicemente a prendere la chiave bene bene saltella donkey junior avanti ultimo livello prima dello scontro del secondo scontro con donkey di questo gameplay e ci sono anche dei cannoni allora vediamo un po' io dovrei per ora semplicemente andare questi sono tipo dei oh attenzione la chiave è qui ok come come la porto giù ho sbagliato attenzione ah per un pelo devo prima andare a prendere il martello lì sotto scendere e distruggere questi quindi ok ok scendiamo oh mamma facendo attenzione a questi cannoni benissimo liberiamo tutto e ora possiamo recuperare in tutta tranquillità la chiave se non muoio prima accoppatole questi penso che siano degli armadilli non ne sono del tutto sicuro ma ok ci facciamo accompagnare tranquillamente giù e andiamo ad aprire anche la porta di qui pom ah ho preso tutti gli oggetti senza neanche accorgermene sempre uno pur di non darmi la soddisfazione ah scontro con donkey che dobbiamo fare qui cadono dei barili oh attenzione forse posso anche fermarli vediamo ah ahia mi è caduto in testa e come come cavolo faccio mica posso portarmeli su vediamo non ne posso eh no cadono giù e basta basta che arrivo qui ah ok tutto qui mi sono fatto tanti problemi per niente comunque ce l'abbiamo fatta con un gameplay di 10 minuti eh ovviamente a lui le mummie non lo toccano figo ok ragazzi chiudo qui questo gameplay l'ho fatto durare un po' di più perché altrimenti veramente erano troppo troppo corti spero che così vada meglio e che vi piaccia lasciatemi un mi piace appunto lasciatemi un mi piace se vi piace maledizione iscrivetevi al canale e lasciatemi anche un commentino noi ci vediamo domani con il prossimo episodio di donkey kong 94 ciao ragazzi